Punto! Bell'intervento, l'arbitro dice che non c'è fallo! Prova la giocata nello spazio, prova il filtrante, può andare! Ha solo il portiere davanti, occhio alla conclusione, buca la rete! Che sensibilità di piede, ha scavalcato il portiere con un tocco morbido, veramente un gran gol! E la partita inizia la grande, subito gol! Oxlade, Chamberlain, Salah, Mandzuki...